L'ambiente che circonda ognuno di noi ci offre risorse ed opportunità, però spesso si sottovalgiano i vincoli che la terra ci impone. Gli uomini rischiano di rompere un equilibrio molto delicato. Ci troviamo in Abruzzo, precisamente nella Marsica. Abitiamo città e paesi che si estendono attorno a una pianura chiamata Fucino, dove si pratica un'agricoltura di tipo intensivo che costituisce la voce più importante dell'economia marsicana. Come ti chiami? Angela. Che lavoro fate? L'imprenditore agricolo. Da quanti anni? Più di 50. Allora, quindi penso che negli ultimi decenni avrete assistito sicuramente ad un cambiamento e che siano stati imposti dei nuovi prodotti chimici da utilizzare sull'ambiente, sul territorio che voi coltivate, no? Sì. Un esempio di questi? Allora, prima si usava il letame e qualche tipo di congime. Ok, di origine organica? Di origine organica. Adesso ci sono sempre le damme, congimi, congimi solubili nell'acqua, sono detti congimi fogliari. E questo sicuramente ha avuto un impatto positivo per voi, per quanto riguarda la fatica del lavoro. Mentre sull'ambiente? L'acqua non danneggia nulla. Quello che danneggia qualcosa sono i pesticidi. E poi abbiamo detto anche che quindi negli ultimi 10 anni invece questi pesticidi ne è stato un po' controllato l'uso. Controllato, sì. Come? Allora, da una decina di anni c'è una ditta apposita che raccoglie i contenitori di questi insetticidi e li smaltisce. Perché prima invece questi dove andavano gettati spesso? Eh, c'è qualcuno che li gettavano ai possati. Chi li bruciava, se ero di carta, li bruciavano pure sul terreno. E allora ha pensato alla fine che l'uomo abbia fatto passi avanti e io passi indietro? Sì, avanti. Tu solo avanti? Sì, e qua ti metti. Salve a tutti, mi chiamo Tommaso di Arcangelis del Forno, sono un apicoltore. Pensi che l'ambiente in cui vengono le api e le condizioni di quest'ultimo possono influenzare il loro ciclo vitale e la loro produzione? Sì, in base alla loro collocazione e quindi alla biodiversità del posto, sia la produzione che il ciclo vitale possono variare. E l'inquinamento influisce sul loro ciclo vitale e sulla loro produzione? Se sì, in che modo? Sì, in un contesto di inquinamento, ad esempio un inquinamento da pesticidi, le api muoiono. Ma anche in un inquinamento diverso, tipo da onde elettromagnetiche, le api vengono disorientate e quindi non rientrano nell'alveare e nel futuro vanno a morire. Pensi che andare avanti senza intervenire sulla questione dell'inquinamento possa segnare il futuro delle api? Senza dubbio, l'inquinamento a lungo andare farà sì che le api scompaiano, influenzando non solo il loro futuro, ma anche quello nostro e gli esseri umani. E come disse il famoso Einstein, dopo la morte delle api non ci restano che quattro anni di vita. I cambiamenti climatici stanno avvenendo rapidamente e di recente abbiamo assistito ad alcuni fenomeni meteorologici particolarmente rari. Di fronte alla smisurata vastità dell'universo, il pianeta Terra è solo una minuscola imbarcazione ed è chiaro che se questa barca dovesse affondare non ci sarebbe più via di fuga per l'umanità. Grazie per la visione!